Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Per l'automobilismo l'attesa è terminata. Prende il via con le verifiche tecnico-sportive. La 23esima edizione dello slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. La gara molisana valida come terza tappa del campionato italiano e quinta della competizione europea di specialità. Finalmente ci siamo. Domani i riflettori saranno puntati sul 23esimo slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. Un grande lavoro dietro la gara automobilistica che ogni anno riscuote sempre un grande successo. Macchina organizzativa dell'AC Campobasso, Tecno Motor Racing Team e la Molise Racing. Ben novanta i piloti che prenderanno parte alla gara più attesa dell'anno, provenienti da tutta l'Italia e non solo. Allo start per la quinta tappa Central European Zone infatti anche otto piloti europei. Tra questi il campione slalom 2014 della Repubblica Ceca Victor Meckl. Il campionato italiano slalom 2015 prevede nove prove, quella molisana e la terza. Non potrà mancare Fabio Emanuele, pilota della Campobasso Corsa alla guida della sua usella a Pia 9, così come il suo compagno di scuderia Luigi Vinaccia. Presente è anche Salvatore Venanzio dell'Autosport Sorrento che gareggerà sul Radical SR4. Oggi le verifiche tecnico-sportive presso la concessionaria Vitale Motor, domani la gara. Ad aprire la manifestazione saranno le auto storiche e moderne impegnate a partire dalle 9.30 nella gara di regolarità. Alle 11 in programma la partenza della prima macchina per la manche di ricognizione. Alle 12.30 lo start della corsa che terminerà intorno alle 17 dopo le tre manche previste. Durante le verifiche, la gara e le manifestazioni collaterali, tutti gli appassionati potranno registrarsi e ritirare il braccialetto in ricordo del 23esimo slalom Città di Campobasso. Per quest'anno inoltre sarà possibile seguire la diretta dello slalom sulle frequenze di Radio Luna Network con radiocronaca di Gianni Bruno e Luigi Di Lallo. La giornata si concluderà presso il salone della concessionaria Vitale Motor che anche quest'anno ospiterà la cerimonia di premiazione. Dalla nostra emittente non ci resta che augurare a tutti un in bocca al lupo. Anche quest'anno l'Interclub Javier Zanetti ha organizzato un convegno in programma l'11 luglio. Da quest'anno la manifestazione sarà dedicata a Vincenzo Cosco, l'allenatore di Santa Croce di Magliano, scomparso lo scorso 9 maggio a causa di un male incurabile. Il trainer molisano era stato coinvolto da due anni nell'organizzazione del convegno, diventato immediatamente un appuntamento fisso dell'estate santa crocese. L'Interclub Javier Zanetti ha deciso così che da quest'anno la giornata nera-azzurra sarà dedicata al special Wolf molisano. I vertici dell'associazione hanno deciso di confermare il tema del convegno pensato da Cosco durante il periodo della malattia. Nella terza edizione si parlerà della battaglia che stava combattendo. Il titolo sarà L'uomo che combatte non perde mai la lotta di Vincenzo tra medicina e fede. Nel pomeriggio invece alle ore 16 sarà in programma un mini torneo regionale per i ragazzi nati dal 2002 al 2007 che fungerà da proscenio per la partita tra le vecchie glorie della Turris, squadra nella quale ha giocato e allenato Cosco contro una selezione denominata I figli di Vincenzo. Calcio, Campobasso, Termoli e Isernia sono loro le prossime protagoniste del campionato di Serie D 2015-2016. Situazioni societarie opposte per le tre molisane. Il Campobasso rimane alla finestra molto interessato al potenziale terremoto che potrebbe derivarne dall'inchiesta denominata Dirty Soccer, aperta lunedì scorso dalla procura di Catanzaro avente ad oggetto giri di scommesse illecite riguardanti partite di Lega Pro e Serie D. La società rossobluti è nelle orecchie dritte rispetto a questa situazione che potrebbe creare dei posti vacanti dell'organigramma della Lega Pro attualmente composto da 60 squadre. Per ora ci sono da registrare delle certezze via Vullo e delle quasi certezze. Seminadeo appese le scarpe al chiodo ricoprirà un ruolo dirigenziale, probabilmente quello di direttore sportivo. La squadra subirà quasi uno smantellamento sia se si dovesse rimanere in Serie D che se si dovesse salire in Lega Pro attraverso il ripescaggio. La società sta pure portando avanti dei contatti con possibili candidati a ricoprire il ruolo di allenatore del Campobasso. Sono stati telefonati Pierfrancesco Battistini che a campionato in corso ha rilevato Massimiliano Favo sulla panchina del Taranto oppure Antonio Mecomonaco, allenatore della Civitanovese fino allo scorso mese di febbraio quando diede le dimissioni alla società marchigiana. Il fronte tecnico lavora su un binario parallelo rispetto a quello societario anche se probabilmente quest'ultima ha una valenza più rilevante in questo dato momento storico. Il Campobasso sarebbe intenzionato inoltrare la domanda di ripescaggio in Lega Pro opera da attuare anche con il supporto delle istituzioni. Lo sforzo finanziario da mettere in campo da subito tra fideghiussione e investimenti vivi sarebbe comunque ingente e la sola garanzia da mettere sul tavolo della Lega Pro da subito dovrebbe ammontare a 400 mila euro. Starà alla società a ponderare un passo significativo nella storia del calcio rosso-blu tenendo bene presente il budget il cui rispetto deve essere assolutamente mantenuto per garantire un percorso continuo al progetto iniziato due anni fa dall'attuale società. A Termoli si fa viva l'associazione di supporter giallorossi Gente di Mare che in un comunicato esordisce così. Non c'è più tempo per le belle parole e ora di passare ai fatti. I tifosi termolesi si chiedono se il miracolo sportivo della salvezza ottenuta qualche settimana fa rimarrà una soddisfazione sportiva o costituirà esperienza e base da cui ripartire per una nuova stagione senza gli stessi errori. I seguenti sono gli interrogativi posti nel comunicato da Gente di Mare. Verranno pagate le pendenze economiche verso gli eroi della stagione appena conclusa dal 10 maggio ore 18 ad oggi perché tutti i componenti dell'attuale dirigenza compresa il presidente Vincenzo Giordano che lo aveva dichiarato ancora non si dimettono. Come si può pensare che chi abbia intenzione ad investire nel Termoli possa avvicinarsi ad una società dalle problematiche ormai note? L'amministrazione comunale è realmente intenzionata ad aprire un tavolo sul futuro del Termoli Calcio. Il comunicato si chiude con la richiesta di dimissioni da parte di tutti i componenti del direttivo della società in maniera tale da poter riuscire a capire chi realmente ha a cuore le sorti del calcio giallorosso. Inoltre i tifosi informano che a breve partirà la raccolta fondi denominata Sostieni la squadra della tua città. Uno sguardo pure alla situazione societaria dell'Isernia che ha appena guadagnato sul campo l'accesso alla categoria superiore è previsto per la prossima settimana un incontro mediato dal dirigente bianco celeste Vincenzo Bucci tra un gruppo di imprenditori romani e il sindaco del capologo Pentro Brasiello. Alla base ci sarebbe un interessamento da parte di tali operatori al calcio bianco celeste. La speranza è che possa essere una trattativa valida perché non venga dissipato quanto di buono fatto quest'anno sul campo dai giocatori con tanti sacrifici annessi. Balla in mezzo 3-0 L'area attrezzata di Bosco Faiete ospiterà l'evento Luna Park in Mountain Bike la Molise Tour Bike del Presidente Gennarelli per agevolare gli appassionati ha previsto tre gruppi prime pedalate, un'introduzione alla bicicletta per il gruppo amatoriale è previsto una passeggiata ciclistica all'interno dei sentieri per finire il gruppo Hard sarà impegnato in un percorso più duro l'appuntamento è per domenica mattina alle nove presso l'area attrezzata di Bosco Faiete Danza si è conclusa ieri sera con un bagno di folla la due giorni della scuola di danza arabesca che al Teatro Savoia ha portato in scena il Don Quixote per il repertorio classico e diversi pezzi di moderno il direttore artistico Irene Fratangelo ai nostri microfoni Irene Fratangelo, direttore della scuola di danza arabesca tanto lavoro ma alla fine portare in scena il Don Quixote e trovare un riscontro da parte del pubblico e delle allieve è veramente una grandissima soddisfazione assolutamente sì e devo dire in conclusione di queste due serate di saggio spettacolo della scuola di danza arabesca sono soddisfatta, sono felice grazie a tutti, grazie alle famiglie, grazie agli allievi come al solito è stata un'esperienza bella ma ogni anno ricca di emozioni tre tue allieve sono giunte al termine di un percorso diciamo così, Manocchio, Galuppo e Di Cristofaro però hai veramente un parterre di allieve incredibile dalle più piccole alle più grandi per l'appunto 80 elementi portati in scena non è un caso anche no, 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 devo dire che sono soddisfatta dei ragazzi che ho, degli allievi loro studiano tanto, amano la danza e quindi c'è un bel connubio fra me e loro ci sono state le diplomande dove si sono esibite nel primo, secondo e terzo atto del Don Quixote hanno rivestito la parte di chitri ed hanno danzato passi a due di repertorio classico quindi ciò vuol dire che comunque passi tecnici proprio dell'antica tradizione del balletto classico Chiusa un'opera, adesso spero se ne apre un'altra si lavora già per un nuovo progetto? sì, vedo che insomma ti è giunto all'orecchio questa cosa sì, a breve, il 23 giugno le ragazze sosterranno gli esami e poi diciamo stiamo preparando un musical da portare in scena a Natale con tutte le allieve che sono già proiettate alle tante ore però anche di lezione in sala perché dietro a uno spettacolo c'è veramente il sacrificio lo possiamo dire che ogni volta le tue ragazze ogni settimana svolgono nella sala sì, devo dire che soprattutto in questo ultimo periodo e soprattutto con le ragazze un po' più grandi abbiamo lavorato tante ore al giorno e sette giorni su sette però è una cosa che ci piace fare e quindi la facciamo volentieri siamo soddisfatti insomma ci piace lavorare, ci piace la danza ci piace anche lo studio della danza Calcio, il Poce di Riccia anche quest'anno ospiterà il torneo Madonna del Carmine giunto alla ventunesima edizione sono aperte le iscrizioni per la manifestazione organizzata dalla famiglia Tronca le gare inizieranno il 16 giugno mentre la chiusura delle iscrizioni è prevista per l'11 anche quest'anno la direzione arbitrale delle partite sarà affidata agli arbitri federali dell'associazione Libertas campionato di prima categoria il Guglionesi dopo il successo in campionato sta programmando la prossima stagione ne abbiamo parlato con il presidente Fulvio Romeo dunque presidente dei Lupetti Guglionesi ma nell'occorrenza del Memorial del Rosso anche mister insomma per una serie di vicissitudini ma a parte questo voglio dire è una giornata di festa per voi che insomma avete ottenuto questa vittoria nel campionato di prima Girone C Sì siamo contenti perché abbiamo raggiunto già l'obiettivo che era prioritario per noi siamo un po' rammaricati da questa manifestazione perché purtroppo come vede sono qui in veste da mister non da presidente per forza perché il nostro mister adesso in questo periodo di maggio chiaramente non penso solo noi ma altre situazioni ci sono delle comunioni e quindi lui è stato invitato in una comunione purtroppo non è potuto essere presente oggi come lui purtroppo non è una scusante ma abbiamo altri cinque presumibili diciamo così titolari o giocatori che sono meno oggi e chiaramente chiaramente veniamo in una situazione rimaneggiata ma questo non significa ripeto non è una scusante veniamo qui siamo venuti convinti e diremo la nostra in mezzo al campo insomma Ecco a prescindere poi il Memorial è stata una stagione davvero importante la vittoria del campionato Guglionesi che torna finalmente diciamo nell'elite del calcio molisana nella promozione dopo fasti insomma del passato quindi a voi il merito di aver riportato questa categoria importante a Guglionesi Certo questa è una cosa che ci inorgoglisce perché effettivamente come dici tu da parecchio tempo che il Guglionesi non presenziava in un contesto che gli appartiene noi con tanti sacrifici ce la stiamo mettendo tutta e vedremo adesso veramente di riportare il Guglionesi ai livelli che gli competono questo non è una cosa facile visto i tempi i tempi che corrono chiaramente per quanto riguarda una situazione economica e di impegno da parte dei giocatori che dovranno disputare una categoria dove sicuramente gli allenamenti saranno più intensivi ci sarà un impegno a priori per forza di cose è doveroso altrimenti vedremo vedremo il da farsi insomma però ripeto come società ci stiamo strutturando ci stiamo impegnando e faremo e faremo il tutto per riportare ripeto il Guglionesi nei livelli che gli competono anche la Sestolese sarà tra le protagoniste del campionato di promozione ai nostri microfoni Pacitto Davide Pacitto capitano della Sestolese dunque che dire insomma una grande soddisfazione per aver vinto questo campionato è stata una stagione complicata ma alla fine ce l'avete fatto certo sì la soddisfazione è grande vincere il campionato non è sempre facile a qualsiasi livello sono anni di sei un anno di sacrifici società mister giocatori quindi la soddisfazione quando abbiamo avuto la matematica è stata grande sinceramente siamo contenti ecco dunque voglio dire anche in prima categoria per te insomma che hai militato in categorie superiori voglio dire c'è bisogno per vincere un campionato di allenarsi e allenarsi con costanza perché poi insomma si trovano squadre che comunque sono allenate certo certo quello l'allenamento è la prima cosa perché anche a qualsiasi livello di pallo sempre in generale ci vuole allenamento sacrificio perché è questo che ti porta i risultati che poi alla fine ti danno soddisfazione quindi allenamento e serietà ecco senti immagino che ovviamente vi volete godere il momento però a tuo modo di vedere questa è una società che anche nel prossimo campionato potrà ben figurare e diciamo proseguire nel buon lavoro che sta svolgendo certo devo dire io sono qui da tre anni da quando è nata questa società e anno dopo anno il presidente tutti gli addetti al lavoro mi ha dimostrato di poter ambire a categorie superiori con sacrificio sempre che metto questo qua abnegazione e tutti i componenti che servono per affrontare qualsiasi ovviamente adesso ci aspetta la promozione che è camminata un po' più complicato però ci rimbocchiamo le mani che ci proviamo a fare bella figura sono aperte le iscrizioni anche al torneo comune di Ripalimosani la competizione è aperta a tutti saranno 16 le squadre che dall'8 giugno scenderanno sul sintetico Marco Vito Antonio per dare vita alla competizione che mette in palio un monte premi finali con premi speciali anche per gli iscritti il vice sindaco di Ripalimosani Luca Mitri ha elogiato l'iniziativa Luca Mitri vice sindaco di Ripalimosani l'istituzione comune del tuo paese della tua cittadina è vicina ha patrocinato il primo torneo Ripalimosani che scatterà a partire dal prossimo 8 di giugno quindi una maniera per accostarsi allo sport assolutamente sì abbiamo cercato di sfruttare al meglio la bellissima struttura che è stata realizzata nel nostro comune e quindi volevamo dare un'opportunità al nostro campo ma soprattutto ai nostri ragazzi i nostri giovani che si stanno impegnando per organizzare questo torneo per sfruttare al meglio questa struttura e per organizzare qualcosa di bello un bel torneo che possa coinvolgere squadre che vanno dall'Alto Molise al Basso Molise per continuare diciamo una sorta di stagione agonistica che durante l'estate non sarà più agonistica ma sarà un momento amatoriale di gioia per vivere un'estate all'insegna dello sport degli spettacoli proprio perché è stata voluta fortemente questa manifestazione e è stata inserita nel calendario di ripestate perché vogliamo ci teniamo nello sport crediamo nello sport quale buona pratica per una vita per una vita diciamo sana salutare e per per non fermarsi e per continuare a mantenersi diciamo in forma e per per dare la giusta vetrina al nostro meraviglioso campo dedicato al nostro Marco Vito Antonio campo dedicato alla memoria di Marco Vito Antonio posato da pochissimo che è un motivo di vanto per il comune di Ripalimosani perché è davvero una struttura all'avanguardia che praticamente confina anche con il campo di basket quindi è un'area proprio riservata allo sport e su questo campo quello in sintetico sul nuovissimo sintetico si svolgerà questo torneo a partire dal prossimo 8 giugno quindi intendete valorizzare ancora di più quindi non solo l'aspetto agonistico si svolgerà ma anche quello amatoriale perché si svolgerà appunto questo torneo sul sintetico assolutamente sì ripeto stiamo intensificando i nostri interventi sullo sport anche grazie a un contributo che abbiamo ottenuto dalla regione Molise dall'assessore Nagni che ci permetterà di smontare la tensostruttura e di realizzare un palazzetto dello sport di categorie A2 e quindi la nostra amministrazione cercherà sempre di avere un occhio di riguardo per lo sport il campo deve essere valorizzato e deve essere valorizzato utilizzato e deve essere sfruttato al meglio per ricordare e tenere sempre presente la memoria di Marco Vitantonio che in quel campo ha mosso i primi passi e è diventato quel grande uomo quel grande giocatore che poi troppo presto la vita ce l'ha portato via Un'ultima cosa entriamo nel merito del torneo a partire dal prossimo 8 giugno ci saranno i nastri di partenza 16 squadre quindi il richiamo è stato abbastanza forte proprio per questo torneo Sì, stiamo cercando di arrivare a 16 squadre crediamo di avercela quasi fatta o meglio gli organizzatori credono di avercela quasi fatta perché mi dicono mi dicevano poc'anzi che le squadre sono quasi quasi tutte hanno hanno dato la loro adesione hanno 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 detto sì al torneo di Ripalimosani e siamo ai nastri di partenza fra poco inizierà il torneo speriamo che sia una bella manifestazione all'insegna dello sport e dell'agonismo ma anche della lealtà verso gli avversari Calcio giovanile mercoledì lo stadio Acqua Santiani di Trivento ospiterà ancora una volta le categorie allievi e giovanissimi questa volta per le finali di Molise Cup per i giovanissimi alle 15.30 in campo San Leucio Mirabello a seguire gli allievi con Acli Olimpi Chisernia campionati nazionali universitari l'avventura Salzo Maggiore per la rappresentativa del Calcio A5 è terminata con una medaglia d'argento una medaglia d'argento conquistata e una di bronzo sfiorata per le rappresentative di Calcio A5 e Calcio A11 del Cus Molise a campionati nazionali universitari di Salzo Maggiore Terme i ragazzi del Calcio A5 guidati da mister Sanginario sono stati superati in finale dal Cus Sudine che ha prevalso per 8 a 6 per i Friulani è stato il terzo trionfo negli ultimi quattro anni e questo la dice lunga su quanto possa essere stato proibitivo il compito per i ragazzi molisani eppure il Quintetto di Sanginario ha venduto cara la pelle facendo sudare le proverbiali sette camicie al Cus Sudine dimostrando ancora una volta che in gara secca non conta il blasone ma la capacità di saper sfruttare le situazioni favorevoli invece bilancio agrodolce per la rappresentativa di Calcio A11 del Cus Molise guidata da mister Gianluca Giorgio che si è fermata a 11 metri dal bronzo eppure il cammino era iniziato con il botto grazie al successo sui campioni uscenti del Cus Parma piegate ai rigori per 4 a 3 dopo l'1 a 1 dei tempi regolamentari poi la semifinale con il Cus Bergamo persa per 1 a 0 ha chiuso definitivamente la possibilità di giocarsi loro e infine la finalina per il terzo posto persa ai rigori per 5 a 4 con il Cus Brescia dopo l'1 a 1 in partita con i ragazzi di Giorgio che si sono dovuti accontentare del quarto posto tutto considerato la spedizione molisana torna in sede con una medaglia d'argento al collo e un quarto posto che consacrano la bontà del lavoro dei tecnici Sanginario e Giorgio e di tutto lo staff che potranno ripartire da un'ottima base per costruire i successi futuri Ancora calcio a 5 dall'8 al 30 giugno si svolgerà il primo torneo La Baita sono aperte le iscrizioni per il torneo di futsal che mette in palio premi in denaro per le prime classificate le squadre potranno iscrivere massimo 10 giocatori bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport vi ricordo l'appuntamento di domani pomeriggio alle 18 con Domenica Sport faremo un punto dei vari campionati avremo ospiti veramente di prestigio quindi l'appuntamento con Domenica Sport domani pomeriggio alle 18 con opinioni commenti e naturalmente tutto quanto è previsto nella nostra trasmissione di bandiera a livello sportivo alle 18 domani pomeriggio Domenica Sport è tutto buon fine settimana a livello sportivo a livello sportivo a livello sportivo a livello sportivo di domani pomeriggio